Bella raga, buona domenica a tutti innanzitutto. Allora voglio dire una cosa, perché nonostante mi ero promesso che mi sarei fatti i cazzi miei, diciamo, però proprio non ce la faccio, perché quando leggo certe robe mi sanguinano gli occhi. A seguito della mia uscita dell'ultimo singolo con Capo Plaza, ho letto veramente tanta tanta gente che dice per che ha l'autotune e mi schilla con l'autotune. No, no, Emis, per che ha l'autotune, con l'autotune è una merda. Allora. Io posso capire che siete giovani e che quindi magari siete un po', anzi un po' tanto ignoranti quando si parla di musica. Però vorrei dare una bella notizia a tutti questi. L'autotune lo uso dal giorno 1. Nell'ormai lontano 2009 uscì il mio primo singolo semi ufficiale, si chiamava Non fa per me, sono sicuro che tanti di voi se lo ricordano. Bene, quel pezzo per esempio nel ritornello ci aveva l'autotune, eppure tanto. L'Erba Cattiva, che è il mio primo album ufficiale, ha praticamente tutti gli incisi cantati con l'autotune. Parole di ghiaccio all'autotune, anche se magari è meno e quindi è un po' più impercettibile. Senza contare poi tutte le robe un po' tamarre che ho fatto in Keta Music 2. Non si parla neanche di conoscenza tecnica, perché l'autotune è un effetto della voce, te ne accorge anche se di musica non ne sei un cazzo. E quindi mi chiedo, tutti quelli che stanno dicendo così, che cosa hanno ascoltato di me, visto che è da più di dieci anni che lo uso. Cioè, le orecchie dove ce le hanno? Tra l'altro, mentre faccio queste storie, c'ho mio fratello Don Gio che in chat mi scrive zio, ma che cazzo te ne frega di spiegarlo? Invece io ve lo voglio spiegare perché voi, mocciosi arrivati l'altro ieri nel rap, vi dovete vergognare di tutte le puttanate che scrivete e che dite. Uscite di casa, scopatevi la vostra fidanzata, se ce la fate, perché ultimamente mi sembra che vi interessiate di più ai brand che alla figa. Io non so cosa dire. Buon futuro a tutti. Ciao.